A questo punto della stagione non c'è bisogno di usare tante parole, nei giocatori c'è consapevolezza. Lecce, come tutte le squadre che abbiamo affrontato, ma lo dimostra anche la classifica, è una squadra di grande rispetto, che noi rispettiamo, una squadra di grande valore, certamente. Ma se siamo davanti, fino a questo momento qualcosa in più rispetto a loro abbiamo fatto. Noi siamo nati fra mille difficoltà, questa differenza con tante altre squadre che sono nate diversamente, con un progetto, con un'estate diversa, più tranquilla, noi l'abbiamo colmata, ma l'abbiamo colmata sul campo e la vogliamo chiudere sul campo. Siamo a buon punto, siamo come stavamo nelle settimane scorse, carichi, con il morale alto perché veniamo da un cammino importante. Questa è una partita che c'è poco da dire, non va preparata in modo diverso perché è una partita che va solo giocata. Da parte di tutti c'è grossa volontà di dare il massimo e speriamo sia un bello spettacolo sabato. Grazie a tutti.